aspetta io mortalo eh mamma mia questa mandata è il milionario è il milionario una sega ci sta un po' pesce ci sta un po' pesce guarda bello ooooh maia le dec su settimane c'è in dieci maia le dec no maia le dec maia le dec non ci sono domani sera a cena pesce di mare domani c'è una festa di laurea e non ci vai e non puoi e non puoi no dai domani sera non ci sono fa domenica per quanto ce n'è ora fa domenica dai dai domenica domenica a casa mia adesso due o tre giorni dici pesce pescato infatti no domenica non ci sono tira su tira su da l'altra volta si va giù bello sono in mente ore c'è la cena di gala bella a vista vengono giù vengono giù vengono giù va con l'altra volta e c'è l'altra volta si fa i sette o tiri di pesce eeeew aspetta è un mostallo sto facendo il video? dai dai giù eccoli eccoli presta guardate guardate bello sugarello eeeh questo è il colpo ooooh fattura fai come prima aspetta bello che c'è aspetta bello che c'è no 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 Sì, questi sono sento peso, eh, raga. Eh, ma noi si è fatto una conservazione di... No, la certa cosa. Noi si adotta la legge della massa. Tira su queste vinta. Ti metti 10 kg di pezzi, scusa, Marco. Che sei nel desto? Ti metti 10 kg di pezzi? Ti metti? Sì, stai tutta la sera con la vera con la canina. Con la canina. 8 kg di pezzi. Quattro strada. 100 kg di pezzi. Ma che colpa, ok? No, no, no. No, 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 che tazzo? No, no, vedi l'aurore. E si fa il pescivendo domani. No, lo sai, lo sai. Che ti fai ora? Perché ti fai reato? 100 euro, 100 euro. Quanto vanno al chilo? Perché c'è sotto peso. Quanto vanno al chilo? Mi sta pure facendo corti con Marcello. Lo sai, mi amico? Allora, andavo a fessare. 10 set. Fessavo a fessare. 10 set. A minimo 30 centime. Fessavo a me. Fessavo a me. A minimo 30 centime sono e. Quando, non prendo conto con le javelme oltre! Sono più grosso. Ahahahahah! Maziaro. Guarda un po' tu. Dai. Quella sta me. Quella sta.. Ahaha. Offh oh ,poh. A 1' a saltare. No, no, vai pillo! Uffh. Un metro d'acciaio, spesso, uno dei pescini si ti fa perfetto. Tira su! Tira su! Tira su! Gigi esci dentro! Gigi che levi di tonno te! Ma ferme! Non va più la rete! Ti dan troppo Marco! Ohhhh! Tira su! No! Trappola! Guarda la macchina! Ohhhh! Dai! Cento! Cento! Tutti su! Lascialo stare! Lascialo stare! Ecco! Canestro! Grazie! Vi faccio i quattro! Al mare o? Ti lo vieni? 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 L'abbiamo buttato nella decina! Cavetto d'acciaio! Mamma mia che pescato è questa via! Ma guarda la! Ma guarda la! Ma guardate questa via! Te l'hanno decili! Decili? Questi altri? Oh! Chiama nè oggi! Chiama nè oggi! Si riempie latino! Maia! Eh! Ma che si...